Ed eccoci ragazzuoli, oggi ho un bel po' di cosucce da farvi vedere per un nuovo episodio degli unboxing. Quindi mi raccomando, pollice in su ora, fatevi sentire al massimo, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Attivate la campanella delle notifiche, così non vi perderete nessuno dei prossimi video. Direi subito di partire da questi due carissimi amici. Sto parlando di Goku e Vegeta in versione Funko Pop, ma si tratta di due versioni molto speciali. Abbiamo Goku, che diventa Super Saiyan per la primissima volta, e poi Majin Vegeta. Entrambi in realtà vanno a costituire, tra virgolette, dei diorami. O meglio, per dirla tutta, non è che siano diorami veri e propri, però comunque hanno uno scenario. Io, ragazzi, proprio i Funko Pop li apro, senza alcun tipo di problema. Preferisco proprio esporli fuori dalle loro scatole. Veramente molto molto bello questo Funko Pop di Goku. Come potete vedere, oltre al personaggio in sé, c'è proprio un'aura alle sue spalle. E mi piace veramente tantissimo. Come al solito, Funko Pop, senza la bocca. Però direi che in questo caso è fatto veramente molto molto bene. Inoltre, l'aura alle sue spalle è azzeccatissima. Nonostante ci sia l'aura, il personaggio non viene reso come una cosa tamarra, cosa che a volte purtroppo succede in alcune figure. Ma non è questo il caso del carissimo Goku Super Saiyan, trasformabile per la sua primissima volta direttamente in questa versione. E passiamo poi al prossimo. Vi sto parlando appunto di Majin Vegeta. E tra l'altro, alle spalle della scatola, vengono riportati anche altri personaggi. Uno di questi dovrei anche averlo, non ricordo assolutamente dove. E vi sto parlando appunto del Drago Sharon gigante. Vatti a ricordare dove sono anche tutti i vari pezzi. Prima o poi arriverà il giorno in cui li esporrò, speriamo quanto prima. Ci sono stati un bel po' di rallentamenti, soprattutto imprevisti per quanto riguarda l'esposizione. Ma arriverà prima o poi. Ed eccolo qua, Vegeta, nella sua versione Majin. Sperando che il tutto venga messo a fuoco. È veramente stupendo. Quasi quasi lo preferisco addirittura Goku, non saprei. Però ragazzi, è veramente bellissimo. Tra l'altro, messo in controluce fa anche un effetto quasi di... di trasparenza. Devo andare a mettere magari delle luci vere alle sue spalle per vedere poi nel dettaglio che effetto fa. La posa è iconica. Credo che la conosciamo praticamente tutti. Vegeta è pronto a fare il suo sacrificio. Ma in ogni caso mi piace tanto, veramente tanto anche Laura. Questi qui, se li trovo ragazzi, ve li lascio in descrizione tramite Amazon. Ma sappiate che io li ho acquistati dai carissimi amici del fanside al centro commerciale Campania. Per ora li rimetterò al loro posto in modo tale che, quando sarà il momento, li potrò andare ad esporre. Ma fino ad allora potrebbero rovinarsi, quindi meglio proteggerli. Prima di farvi vedere altre figure, qua ragazzi, ho acquistato direttamente da Amazon due nuovissimi Blu-ray. Il primo è questo qua di Kong, School Island. Ragazzi, veramente spettacolare. È la versione 4K. Io sono un grandissimo, veramente gigantesco fan di tutti i mostri giganti. Chi ne ha più ne metta. Quindi non possono amare Kong, non possono amare Godzilla. Che in questo caso, ragazzi, abbiamo il Blu-ray 4K del secondo film. Quindi Godzilla 2, il re dei mostri. King of the Monsters. Non vedo l'ora di andarli a vedere magari direttamente su PlayStation 5. E sono curiosissimo di vedere questa versione 4K. I film già li ho visti un botto di volte. Però non, diciamo, con questo livello di qualità. Se devo essere sincero, sono molto belle anche le confezioni. Ma l'interno è quello che lascio a desiderare. Perché da come vedete, in realtà non ci sono immagini, non c'è un booklet, non c'è veramente nulla. Un'edizione quindi che magari costicchia, anche se su Amazon è in grandissimo sconto. Pensate questi, io li ho presi entrambi, roba come 11 euro. Nemmeno i Blu-ray normali, a volte quelli lì non 4K, sono a questi prezzi. Per cui veramente tantissima roba. E quindi in totale, sì, ci sono due dischi per ognuno. Avrei preferito qualcosa in più proprio a livello estetico. E purtroppo non c'è. Ci sono confezioni poi in cartoncino al di sopra. Però nel complesso ci può stare. In questi casi, per me, contano assolutamente i film. Ma andiamo ai prossimi oggetti. Ad eccoli qua, ragazzi. In questo caso dovrò sicuramente farvi delle riprese aggiuntive. Stiamo parlando di Izuku Midoriya, direttamente da My Hero Academia. Quello che vedete qui, magari qualcuno potrebbe confondersi. No, ragazzi, non è un giocattolo. Si tratta di una vera e propria action figure che ha anche un certo prezzo. Questa qui è stata un po' difficile reperirla. Magari vedrò se sarà su Amazon, ma ho i miei serissimi dubbi. Si tratta di una linea di figure veramente spettacolari. Vi sto mettendo delle riprese magari in questo preciso istante. Potete vedere quello che è il protagonista di My Hero Academia, manga slash anime che vi consiglio assolutamente. Quindi il caro Izuku Midoriya, o Midoriya, che dir si voglia. E lo vediamo praticamente con tantissimi accessori. E anzi, sono pure troppi, se devo essere sincero. Ci sono varie tipologie di mani. Addirittura si possono cambiare gli occhi al personaggio. E poi ci sono addirittura degli effetti di aura. Sono delle piccole scintille che possono essere inserite su varie parti del corpo di Midoriya, comprese le braccia. E poi ci sono addirittura anche delle scritte come Smash e simili. In modo tale da andare a replicare quelli che sono magari gli attacchi più incredibili del personaggio. E metterlo in posa nel modo giusto. Veramente stupendo. Io l'ho già aperto, l'avete visto in ogni caso, in ogni suo dettaglio. Veramente stupendo. E insieme a lui, ragazzi, non potevo non prendere qualcosa che è uscito in contemporanea. E stiamo parlando di lui. Eh, sì, ragazzoli, ci voleva. Uro Maito! Eccolo qua, Uro Maito. Un altro personaggio di Meiro Accademia. Il mio preferito in assoluto e probabilmente lo sarà sempre. Ma finché non finisce il manga che io sto leggendo, sono in pari. Chissà, non si sa mai. Però al momento resta ancora lui, mi dispiace. E ragazzi, personaggio veramente incredibile. Anche questo l'ho reperito appunto insieme a Midoriya. È un personaggio questo piuttosto grosso. Ci sono veramente tantissimi accessori. Si tratta in pratica di varie teste. Poi abbiamo varie mani per andare a fare anche pugni e indicazioni varie. Poi ci sono addirittura anche degli effetti, in questo caso, non di aura, ma di aria. Poiché, come sappiamo, per chi ha visto sia l'anime ma ha letto anche il manga, sa che alcuni pugni di questo personaggio spostano l'aria. Ultimo pacchetto che avevo già scartato ma che vado ad aprire in vostra compagnia. Uno spazzolino elettrico di quelli di ultimissima generazione. Questo è il nuovissimo Oclean X-Pro Elite Smart Sonic Electric Toothbrush. Mamma mia, ragazzi, che nome incredibile. Questo qua ve lo lascerò in descrizione, così come tutto quello che potete reperire. Ci saranno anche dei sconti, probabilmente, per questo qua che mi è stato inviato. Voglio andarla ad aprire con voi. Questo addirittura dovrebbe avere anche il Wireless Fast Charging. Per dirlo all'italiana è possibile andare a ricaricare in maniera wireless quello che è lo spazzolino. Ed è una cosa fighissima. E se non ho capito male, questa base di ricarica, eccola qua, può fungere addirittura anche da base di ricarica proprio per i cellulari. Ed è una cosa ottima. Infatti, andando a rimuovere questa parte superiore, resta quella che è la basetta. E con questa ci appoggia il cellulare e si va a ricaricare. È una cosa veramente ottima. Poi qui c'è anche un altro oggetto. Probabilmente serve per andare ad attaccarlo da qualche parte. Può risultare molto utile. E poi qua ci ritroviamo quello che è lo spazzolino vero e proprio. Molto elegante. Mi piace parecchio. L'impugnatura è piuttosto ruvida. È una cosa ottima questa perché a volte con lo spazzolino attuale che ho, magari con l'acqua scivola dalle mani. E non è una cosa assolutamente simpaticamente mentre ti stai lavando i denti. Anche in questo caso c'è lo schermetto che andrà a dare varie indicazioni. Quindi è proprio uno schermetto touch. Io vi lascerò tutto assolutamente qua sotto in descrizione. Così si tiene in piedi e va appunto a ricaricarsi. Veramente ottimo. Poi è abbastanza compatto. Mi piace. È possibile andare a rimuovere la testina. Veramente tanta tanta roba. Io ragazzuoli vi lascio tutto in descrizione. Vi ringrazio per essere stati con me in questo velocissimo unboxing. Molto presto arriveranno tanti altri pacchi. Tanto continuano ad arrivarne uno dopo l'altro. Non vedo l'ora di mostrarvi tutto. Io vi ringrazio come sempre per tutto il grandissimo supporto. Mi raccomando iscrivetevi. Lasciate un like. Se non l'avete ancora fatto guardate altri video. E alla prossima. Ciao.